Salve a tutti sono qui Francesco Fusillo e Maurizio Marangoni a fare questo video tutorial dal titolo entrare nel BIOS utilizzando Windows. Allora entrare nel BIOS è determinante se si vuole installare un altro sistema operativo nella macchina sia che sia in dual boot sia se si vuole installare su di Linux da solo perché il BIOS è quel sistema operativo che gestisce tutte le funzioni della macchina in particolare la priorità di boot cioè la priorità di avvio e se non si va ad agire su quello la macchina partirà sempre ed esclusivamente con Windows. Quindi è assolutamente importante entrare nel BIOS. Questa manovra può risultare però molto difficoltosa perché ogni macchina ogni marca ogni pc ha un suo sistema. Qualche volta sono i tasti di funzione F, ESC, DL oppure in alcuni casi c'è appunto un piccolo tastino R7 da usare con uno stuzzicadenti o in altre situazioni una combinazione di tasti come in questo qui che avete qui davanti FN il tasto FN più il tasto funzione. Allora noi abbiamo pensato di fare questa guida e metterla online perché con Windows si può gestire questa questione e far entrare la macchina nel BIOS con un ordine impartito da Windows. Allora per fare anche facilitare di più questa operazione abbiamo pensato di preparare questo piccolo video tutorial, questo tutorial dove passo passo abbiamo indicato le manovre. Fate uno screenshot di questa di questa schermata in modo che possiate poi dopo seguirle. Noi la faremo adesso a video lezione però i comandi sono questo. Questi sono i pulsanti che troverete mano a mano che si va avanti nel tutorial. Ecco quindi potrete anche riconoscerli. Ovviamente entrerete in un ambiente diverso da Windows e non preoccupatevi perché è così se si vuole entrare nel BIOS bisogna fare queste manovre. Bene allora si entra in Cortana e si digita impostazioni. Bene eccolo lì. È un ambiente del pannello di controllo praticamente. Apro impostazioni e faccio clic su aggiornamento e sicurezza. A questo punto devo fare un clic su ripristina. Qui nel pannello di sinistra. E dare il comando riavvia ora. A questo punto si apre questo ambiente. Anche questo ambiente può preoccupare ma è necessaria questa strada per poter andare a chiedere di risolvere i problemi. Non ci sono problemi ma per Windows chi vuole mettere le mani al sistema sono problemi. Allora noi clicchiamo e andiamo tranquillamente in opzioni avanzate. Clicchiamo opzioni avanzate. Ecco la ultima azione da fare. Impostazioni firma e wifi. Quindi io clicco importazioni wifi e do il comando riavvia. Riavvia. Ecco adesso state tranquilli che la macchina si riavvierà con l'interno del BIOS. Di questo famigerato BIOS. Ok qui avete tutti i menu. Queste sono le caratteristiche della macchina. La configurazione. Quello più importante è qui in security. Le priorità di boot e le seconde boot. Però questo è oggetto di un'altra direzione. Adesso per far vedere che siamo entrati nel BIOS e che ne usciamo senza che succeda niente. Diciamo esci salvando i cambiamenti. O esci non cambiando niente. Ecco che la macchina riparte tranquillamente con il suo Windows. Questa è una macchina in dual boot con Windows e Linux. Adesso riparto con Windows. E la macchina ritorna quella che era. Quella che era riparte con Windows senza aver messo in evidenza il BIOS. Non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire che seguite passo passo queste istruzioni che abbiamo dato. e volevo far vedere che riparte Windows ma ho sbagliato la passo. Cosa che succede. E buona sperimentazione. Ecco chiudiamo il video ripresentando la procedura per entrare nel BIOS. Quindi fatevi uno screenshot e buona sperimentazione con entrare nel BIOS senza nessun comando di funzione ma da Windows. Buona sperimentazione. Saluti. E saluti.